si buongiorno buongiorno sono sempre io Anthony Conca buongiorno sono sempre io Anthony Conca e proprio se stiamo pronti per il prossimo pallone facciamoli e proprio se siete pronti facciamoli pallone a paperaccia ragazzi guardate qua vi faccio l'ingandesimo vingardium leviosa inizia il prossimo video di pallone donna sta tagliando le minestre per la canna l'ola per farcele mangiare e per fare in modo che palleggio palleggio ehi tantissimo ragazzi anche se l'ola non gradirà le sue le sue erbacce che nonna sta tagliando là sotto per oggi e per i gatti oggi quello c'è da mangiare capito? l'ola io sono l'occhio di Dio l'occhio del Deo vedo tutto esci da sotto a sta macchina cammina forza cammina defamore esci io sono Dio e ti punisco hai capito? io sono Dio e ti punisco ti punisco per aver mangiato il serpente esci sotto dalla macchina e e vai va la volta che ti ho punito ti fai in culo perché il serpente ti ha punito dal consigdetto palleggio esecutivo palleggio sdragagnola ah tu stai pure nata bravo partendo ma vai a fare il pascolo delle pecore che tu sei abituato a fare il pascolo delle pecore facciamo il prossimo video di palleggio ragazzi sono io Dio quello che comanda il cielo e fammi dire a piovere o no oggi Dio ha fatto uscire un bel sole eppure delle belle nuvole vieni qua maneggia caputoa maneggia caputoa maneggia caputoa ma ci ha parlato in un po' in volute maneggia caputoa sto pallone di merda mamma ma ha fatto scappare mille miglie palleggio 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 mamma guarda là che ha fatto palleggio 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 mamma rovesciata al cinquentesimo cinquentesimo goal di Lavezzi zotti e Sharawi oddio e Sharawi sta proprio in volume facciamo il video di pallone come se voi non lo volete far sembrare un video di pallone c'è la chi ha una sdragagnola 100 tanti all'ora ehi bravo bravo fermi ma ti sto pallone di merda ma te la fai dentro il pavrello allora e te la gente e te la dosa vita allora te la dosa vita che gli posso sparare con fucile a canna sola come sparano anche un paio con fucile Stefano scappaticcio Gianluigi Cappello Gianluigi De Sandis e Domenico Cantelmo grande il video di pallone vingardium levio vingardium sa 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 a e la